Tempoli di luce è un lavoro pensato apposta per il museo di Bassano. Lavora con la luce, con il segno e con il colore. È un continuo cambio di movimento, di intensità del lavoro proprio dato dal cambio stessa della luce, che sia naturale o che sia artificiale. Esternamente c'è un'installazione neon, occhi nel tempo, piramide in acciaio dove girano intorno queste tre occhi che si accendono ad intermittenza. Questi tre occhi sono forme che sono nati da disegni che facevo ancora nel 1995 in autobus. È stato tutto un cambiamento di queste forme che poi sono diventate prime installazioni a pareti, poi piccole forme dentro le mie scatole in plexi e poi sono ritornate per diventare tubi neon. Grazie. Grazie. Grazie.